Siamo venuti qua a Torino Short Film Market per presentare Balcan Film Market, che non è nient'altro ma un'iniziativa che tenta di valorizzare la situazione industriale del cinema in Balcani, ma non solo. Stiamo cercando di trovare tutti i ponti che ci collegano con l'Italia e con il resto dell'Europa proprio per promuovere una cinematografia poco conosciuta ma molto vitale e esplosiva. Stiamo facendo qua in questa attività una presentazione di cinque corti balcanici di registe solamente donne, che vuol dire scoprire un lato poco conosciuto anche dal punto di vista della presenza femminile nel cinema balcanico. Abbiamo tentato in questi ultimi anni di mettere insieme, di creare questo partenariato con Torino, con Short Film Market, proprio perché pensiamo che esiste un potenziale da scoprire da tutti e due lati. E' questo che stiamo già facendo.